Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buonasera e buon tutto. Allora, no, ho bisogno di voi, ho bisogno di voi. Intanto, vabbè, volevo chiacchierare un pochino, volevo sapere cosa avevate fatto in questo weekend, volevo sapere come era andato qui a Milano, piove a bestia, oggi è una giornata piovosissima, una cosa pazzesca proprio, e spero che il vostro weekend sia andato bene. Cosa avete fatto? Ecco, raccontatevi cosa avete fatto in questo weekend, sono curioso. Io sono andato al cinema, ho visto Scary Movie 5, molto bellino, mi ha calvato un monte, cioè, ho fatto due risate, insomma, non è che sia il 2001 di 6 allo spazio, però insomma fa molto ridere, mi sono divertito molto. Poi ho lavorato, che sto preparando questo film Fuga di Cervelli, e proprio per questo film vi volevo chiedere una mano. Ci avrei bisogno di ritrovare uno di 18 anni che mi possa assomigliare. Come cazzo fa? Mi potete aiutare? Datemi una mano, vi prego, perché non so come fare. Allora, se ce la fate, mandatemi delle foto in qualche modo, magari mandatemi anche alla mail produzionechiocciolannitodelcuculo.tv e mandatemi una foto, perché sto cercando un ragazzo di 18 anni, 17 anni, 16 anni, insomma, che però mi possa assomigliare un po'. Ora so che magari ne arriveranno a Caterde, io li guardo, forse non riuscirò a rispondere a tutti, però insomma, ci avevo bisogno di voi. Fatemi sapere che ci tengo a bestia. Grazie di essere sempre bellini, meno male ci siete voi mai usati. Un bacione.